Musica Calcio tiene banco la questione allenatore in casa Gubbio, Galderisi accetta ma solo in caso di Lega Pro La società valuta i profili di Morgia, Maggi e Nofri, intanto in serie B scoppia la bufera Catania Coinvolto anche l'ex rosso Bruce Cagin Il nuovo città di Foligno di Mister Giunti stringe per i ritorni di pezzi pregiati Galbiati, Montanari e Di Paola Kickboxing si avvicina il trofeo città di Gubbio domattina conferenza stampa di presentazione Ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG Calcio in apertura in casa Gubbio tiene banco la questione allenatore Dopo l'incontro avvenuto ieri la società Gubbio ha posto in cima alla lista dei papabili Giuseppe Galderisi Che ha dichiarato di apprezzare la piazza Gubbio ma ha posto come scoglio la categoria di appartenenza In sostanza il tecnico nativo di Salerno, già allenatore del Gubbio 11 anni fa e attuale opinionista di Rai Sport Sarebbe interessato solo in caso di riammissione in Lega Pro Le parti si rivedranno la prossima settimana ma la società Eugubina lavora anche su un ventaio di nomi alternativi Che comprendono Massimo Morgia appena promosso dalla D con il Siena Giuseppe Maggi capace di compiere lo stesso tragitto alla guida della Maceratese L'ex trainer del Foligno Federico Nofri Più definite le candidature di Piero Braglie per Francesco Battistini Mentre esce dalla lista Lamberto Magrini confermato per un'altra stagione sulla panchina del Re Canatese Restiamo al calcio intanto dopo il fallimento del Parma che dunque sprofonda tra i direttanti E' scoppiato il caso Catania denominato i treni del gol Sette persone tra cui il presidente Pulvirenti sono state arrestate stamane con l'accusa di frode in competizioni sportive Truffe, le partite truccate per raggiungere la salvezza del Catania sarebbero 5 Tra cui quella con il Latina vinta 2-1 dai siciliani E dove indagato è anche il difensore ex Gubbio Matteo Bruscagin Fin 5 anni fa appunto nel Gubbio di Torrente Lo vediamo nella foto Se venisse confermata la responsabilità oggettiva il Catania sarebbe retrocesso automaticamente in Lega Pro Il Gubbio sempre alla finestra in questo fronte Spera che la medesima situazione possa verificarsi Per il Teramo invischiato nel filone Dirty Soccer insieme a Savona e L'Aquila Restando al calcio in Serie B sale l'attesa per i primi annunci ufficiali del nuovo Perugia di Bisoli Salvo sorpresi il primo colpo sarà il centrale difensivo Volta Reduce dall'esperienza proprio con Bisoli a Cesena di proprietà della Sampdoria Che con Bisoli vestì anche la maglia del Foligno A cui seguiranno i rinnovi di Comotto e Mantovani Da segnalare anche l'interesse per il giovane Cinaglia di proprietà del Torino Nell'ultima annata ad Ascoli In mediana da registrare il sondaggio della La Spagna del Valencia per Taddei Che ha ancora due anni di contratto con i Grifoni E al contempo la trattativa avanzata per il pari ruolo Pazienza Svincolato dopo l'esperienza di Bologna In attacco invece in attesa di rimere la cherela Ardemagni con la Talante Il DS Goretti tiene sempre aperta la pista e Bagua Ma lavora anche per due ex Parmenzi ora svincolati L'esperto Coda corteggiato anche da Carpi e Chievo E il giovane Cerri reduce da una buona annata Lanciano è destinato ad essere prelevato dalla Juventus Sondaggio anche per il fantasista dell'Empoli Verdi Impegnato in questi giorni con l'Under 21 A metà tra Milan e Torino Scendiamo in Serie D Comincia a prendere forma il nuovo città di Foligno Di Mister Giunti Tra i pali ci sarà Biscarini Destinato a salire Partirà scusate Biscarini destinato a salire di categoria Si giocheranno il posto i promettenti Classe 96 Rospetti e Palmieri Indifesi in arrivo i centrali Gennari e Castaldo L'esterno sinistro Capitolo E la conferma destra di Calzola Mentre sono in partenza Ciurnelli Fa per due e Petterini A centrocampo la società stringe per i ritorni di lusso Di Galbiati e Montanari Oltre che per le conferme di Ubaldi E Menchinella Mentre certo l'addio di Capitan Coresi In attacco invece Vegnaduzzo non resterà E per la sostituzione del centravanti argentino Il nome in cima alla lista è quello di Di Paola Pronta a tornare in bianca azzurro dopo l'annata San Benedetto del Tronto Verso la permanenza anche Urbanelli Reduce dall'infortunio al ginocchio E il giovane Fermanelli Ci spostiamo al volle La Superlega Con l'ennesimo colpo effettuato a giugno Dalla Circefti Perugia Ufficiale l'acquisto di Alberto Elia Centrale di 2,5 metri Classe 85 Che ha vissuto le ultime due stagioni a Monza Elia porta in dote dieci stagioni Tra A1 e A2 In piazze come Treviso Crema, Catania, Roma, Taranto, Santa Croce Castellana, Grotta e Monza In cui si è contraddistinto per le sue doti a Muro Lo stesso Elia andrà a completare Assieme a Birarelli e Buti Il pacchetto dei centrali della Siria Al contempo formalizza l'addio con il pari ruolo Rocco Barone Elia il quarto innesto Istivo della formazione bianconera Dopo Birarelli, Calibert e Dimitrov Unito A conferme importanti come quelle di Antanasievic De Cecco, From, Buti, Giovi, Fanuli E Zio Macas Per un roster di grande rilievo A disposizione di coach Castellani Cambiamo disciplina Si avvicina Sempre di più il grande evento di sabato prossimo Kickboxing a Gubbio Alle 21 Nel suggestivo scenario di Piazza Grani Si svolgerà il secondo trofeo Città di Gubbio Organizzato dalla Gubbio Cross Rulets A duellare sul ring Tra gli altri Ci sarà l'Eugubino, Matteo Calzuola Fresco, campione del mondo Di full contact Due settimane fa a Rimini Oltre a Calzuola Sareranno sul ring I quattro migliori fighter Professionisti italiani Nella stessa serata In programma anche il torneo Tutto al femminile Con le quattro migliori atlete nazionali Domattina Conferenza stampa di presentazione Nei locali della palestra Cross Rulets Al Bivio Contessa Appuntamento a cui dedicheremo La rubrica di domani sera TRG Plus Chiudiamo parlando di ciclismo Con piazzamenti in serie Per la Gubbio ciclismo mocaiana Nel weekend Ottavo posto per l'elite Mattia Bucci Dell'acqua sapone team mocaiana Conquistato al termine del settimo Memorial Giulio Bresci Di 151 km A Siano di Carmignano In provincia di Prato Buon piazzamento anche per Niccolò Pengedano L'allievo della Gubbio ciclismo mocaiana Ha infatti ottenuto un quinto posto Al termine del quarto Memorial Zama 81 km Che si è svolto a Cotignola In provincia di Ravenna Da segnalare che nei giorni scorsi Alcuni giovanissimi Della Gubbio ciclismo mocaiana Hanno preso parte Al meeting nazionale di società Che si è svolta a Pineto In provincia di Teramo Durante il quale i bimbi e i gubini Si sono messi in luce Il miglior risultato Quello di Matteo Magnoni Lo vediamo nella foto Che ha conquistato un secondo posto Su strada E un decimo Nella Gincana Complimenti è tutto dunque Per questa edizione del TRG Sport Che potrete vedere replica non stop Dalle 20 alle 21 Sul canale 111 TRG1 E poi stasera dalle 23 Con le repliche dei nostri TG L'informazione anche sportiva Torna domattina Con la nostra rassegna stampa Alle 7 e 30 Grazie per l'ascolto E buona serata Grazie per la visione